Le zone rosse in campagna ricoprono porzioni molto ampie di territori, e stante le evoluzioni degli ultimi mesi sono sempre più a rischio. O meglio, a rischio è quella parte della popolazione che negli anni ha ignorato i pericoli da costruito in barba a qualunque precauzione. Ciò è avvenuto in area ridosso del Vesuvio, dove la densità abitativa è inimmaginabile, e qualora il grande vulcano decidesse di risvegliarsi, migliaia di persone si troverebbero in una condizione di enorme criticità. Stesso ragionamento vale per l'isola di Ischia, dove il saccheggio del territorio ha portato a costruire in un contesto di alta sismicità e fragilità del territorio. I recenti accadimenti, come il terremoto di Casamicciola o l'alluvione nella stessa area, hanno dimostrato che la natura può essere devastante se non ci si mette in condizione di affrontare con intelligenza le emergenze. Secondo il rapporto Ispra 2023, in campagna, in un solo anno, è come se fosse sorta una città di 5,5 km2. Il caso più eccalatante riguarda l'area dei Campi Flegrei. Fin dall'insediamento dei Romani è difficile da comprendere come le popolazioni abbiano deciso di insediarsi in una zona costantemente a rischio per evoluzioni vulcaniche e terremoti. Certo, la meraviglia dei paesaggi, il clima e la qualità del mare sono risultati molto attraenti. Ma oggi si paga lo scotto di un'urbanizzazione selvaggia e senza regole, per questo gli allarmi di questi giorni della comunità scientifica, a cui si è giunto oggi sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno, il vulcanologo Giuseppe De Natale si susseguono. E stanno creando enormi disagi nelle comunità e in chi è chiamato a gestire le emergenze. De Natale, studioso di riconosciuta fama, sostiene che il bradisismo riprenderà vigore e che questa tregua non significa alcunché, anzi aggiunge che le scosse potrebbero intensificarsi per numero e magnitudo. Ciò che allarma di più è che ribadisce il pericolo più grande, quello di un'eruzione freatica, ovvero senza interessamento di magma, ma solo di gas e vapore, che non risulterebbe meno letale e che coinvolgerebbe centinaia di migliaia di persone. Il governo in queste ore sta ridefinendo la zona rossa bradisismo. Nel contempo, i comuni iniziano a spingere per provvedimenti di salvaguardia delle abitazioni e di bonifica delle vie di fuga. Si ragiona sull'emergenza, ma si vive la giornata in questo paradiso di terra che balla sulla bocca dell'inferno.